Niente Serie D per la neonata SSD città di Teramo. E questa è la decisione presa dal presidente della FIGC Gabriele Gravina e ufficializzata ieri tramite PEC. L'unica possibilità su cui però si è riusciti a trovare un'apertura è quella della promozione e non categorie più basse come si temeva alla vigilia della decisione definitiva. Ad annunciare la possibilità di questa iscrizione al campionato regionale di promozione che ricordiamo prenderà il via il prossimo 18 settembre e che rappresenta in questo momento la miglior categoria per il calcio teramano è stato questa mattina il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto accompagnato dall'avvocato Gianni Gebbia a capo della commissione istituita dal sindaco per seguire la delicata vicenda e Antonio Paoluzzi, membro della commissione. Ieri sera si siamo svegliati in terza categoria come società città di Teramo e siamo andati a dormire nella notte, ieri sera in promozione nel senso che c'è stata un'interlocuzione tale per cui chi doveva valutare ha preso atto dello straordinario lavoro che è stato fatto nel corso di queste settimane per poter offrire una opportunità e un'occasione di continuità al calcio teramano con una presa di posizione da parte della federazione che io non commento ma che comunque ha fortemente fatto capire che siamo stati penalizzati dal protrarsi dei ricorsi. Se non ci fosse stato il ricorso al Consiglio di Stato la questione si sarebbe potuta discutere nei primi giorni del mese di agosto quando eravamo pronti a partire così come è stato per il Novara ad esempio lo scorso anno. La scelta legittima è stata altra ma questo di fatto ha fatto protrarre i tempi in uno stato e in una condizione tale per cui il 26 agosto alla consegna di tutta la documentazione assolutamente legittima, corretta, non è stato possibile attivare l'articolo 52 per quanto riguarda la serie D e l'eccellenza. E devo dire che solo il fatto di aver lavorato per avere una società che comunque deve dare e può dare continuità al calcio teramano ci ha consentito di raggiungere la prima categoria utile sotto l'eccellenza con il rischio, sapete benissimo, anche perché c'erano state anche dichiarazioni pubbliche da parte degli organi federali che si potesse scendere sotto. Daremo adesso tutto il supporto alla nuova società per poter partire perché ci sono ancora dei passaggi da fare. Questo gruppo di imprenditori che si è messo in gioco ha dato conferma di voler partire avanti anche il calcio teramano nel campionato di promozione per poter trovare da qui a breve la giusta dimensione calcistica e sportiva che Teramo merita.